Il mio primo ricordo da bambino, di notte quando bombardavamo e si usciva di casa per andare nei rifugi a sconderci, il cielo illuminato dai Bengala, che erano razzi luminosi lanciati dagli aerei con dei paracadute, e per me era una festa, ero piccolo, quando erano 4-5 anni, queste cose luminose, era una cosa che mi divertiva, era terribile invece, perché poi bombardavamo. Il mio primo ricordo sui partigiani è quando mio zio, che poi è morto da partigiano sul Monte Caio nel Parmense, sparì di casa e gli disse che dovevo dire che era malato e che era andato in ospedale, perché non dovevo dire quello che altri dicevano che era andato nei partigiani.